buonasera a tutti e benvenuti sul canale youtube e sul blog vincenzocaputo.com oggi andremo a trattare un argomento un po' più particolare meglio un po' più interessante per tutti quelli che come me sono sbadati e magari uscendo di casa lasciano luci accese tv accesa eccetera questo comporta ovviamente un dispendio economico per quanto riguarda i costi in bolletta della dell'energia elettrica quindi abbiamo oggi vedremo insieme un piccolo packages che praticamente o tramite la geolocalizzazione del cellulare o tramite uno xiaomi button lo allontano perché ecco uno di questi piccoli aggeggini zigbee quindi tramite uno di questi aggeggini possiamo spegnere il tutto con un click meglio io ho messo una pressione prolungata del del dispositivo oppure tramite cellulare magari scordiamo anche di premere questo piccolo pulsante tramite il cellulare quando ci allontaniamo da casa quindi indichiamo lo stato da home a not home per home assistant in automatico vengono spente luci abbassate tapparelle e tv andiamo a vedere subito il packages scusate per la voce un po raga stasera e iniziamo subito a capire cosa abbiamo fatto abbiamo innanzitutto dichiarato tre gruppi ovvero le luci da spegnere intitolato proprio luci da spegnere dove all'interno qui dovrete cambiare le vostre le vostre entità luci che sono già preconfigurate in home assistant abbiamo creato un altro gruppo io ne ho messo due legate alle persone quindi al person all'entità person di home assistant io ne ho messo due però ovviamente voi potete metterne anche più di due la stessa cosa dicasi per le entità luci legati ai componenti della famiglia quindi person punto name nome 1 e nome 2 quindi person punto antonio person punto vincenzo person punto alberto o luigi e infine abbiamo creato un terzo gruppo denominato tapparelle da abbassare le tapparelle da abbassare ovviamente sono gestite nel mio caso da shelly 2.5 ma potrebbero essere anche altri dispositivi la cosa più importante è che siano riconosciute in home assistant come cover anche qui io ne ho messe 4 cover punto camera da letto cover punto studio soggiorno e cucina però voi ovviamente se avete molte più tapparelle potete sempre aggiungerle in questo gruppo poi abbiamo dichiarato altri due componenti principali ovvero due input boolean input boolean non sono altro che abbiamo già spiegato in passato però vi vi ricordo brevemente cosa siano sono dei piccoli dei piccoli interruttori virtuali che azioniamo in questo caso con delle automazioni allora il primo interruttore virtuale lo abbiamo chiamato tutti fuori ovvero questo interruttore si attiverà nel momento in cui tutti i componenti della famiglia saranno fuori e si disattiverà nel momento in cui uno dei componenti della famiglia sarà rientrato a casa invece l'attivazione da pulsante non è altro che un altro switch virtuale che praticamente ci indicherà l'azione che vogliamo eseguire quindi con un tap prolungato quindi con una pressione prolungata del nostro Xiaomi Xiaomi Mi button attiverà l'automazione di spegnere luci e tutto il resto invece con un doppio clic o un doppio tap come lo volete chiamare si disattiverà questo pulsante virtuale ovviamente qui abbiamo indicato tutte le automazioni che dicevo poc'anzi quindi per l'attivazione dell'input boolean tutti fuori per l'attivazione io l'ho chiamata chiusura automatica però l'attivazione non sarebbe altro dell'attivazione da pulsante delle variazioni da eseguire e ovviamente come ho nominato l'attivazione di questi input boolean ho nominato anche le disattivazioni con l'automazione in questo caso 3 e 4 in queste 4 automazioni che vi ho elencato non dovete cambiare nulla se non solo il binary sensor legato allo Xiaomi Mi button successivamente nella quinta e sesta automazione non facciamo altro che dire attenzione spegni il gruppo luci tramite o l'attivazione se l'input boolean legato alla geolocalizzazione dal cellulare è attivo oppure se l'input boolean legato al click dello Xiaomi Mi button è attivo ora passiamo a 4 automazioni io ne ho messe 4 potevano essere 6, 8, 10 tutte queste automazioni sono legate alle vostre tv oppure ai vostri elettrodomestici comandati magari da un broadlink RM3 mini oppure se sono smart tv e quindi integrabili in home assistant al servizio di di spegnimento dei televisori in questo caso però non si non era possibile effettuare un gruppo perché molti televisori hanno molti televisori hanno purtroppo il codice a infrarossi sul telecomando di accensione e spegnimento con lo stesso codice praticamente loro manderanno sia per l'accensione che per lo spegnimento lo stesso codice al televisore quindi se un broadlink RM3 mini replicherà questo tipo di stato nel momento in cui un dispositivo è spento e gli altri sono accesi in automatico il televisore che era prima spento si accenderà ecco perché in questa fase non è possibile eseguire l'automazione creando dei gruppi a meno che non abbiate televisioni che abbiano dei tasti di accensione e spegnimento con dei codici separati ma di questo sinceramente dubito oppure abbiate televisori tutti i televisori smart e in quel caso potreste anche optare per questa per questa soluzione infine ci sono altre due automazioni legate alle tapparelle le quali indicheranno che se almeno una delle tapparelle è alzata il gruppo sarà attivo quindi bisognerà abbassare tutte le tapparelle sempre con il solito ragionamento che se l'input boolean di tutti i fuori oppure l'input boolean di attivazione del pulsante è acceso abbasserà le tapparelle ovviamente tutte queste automazioni sono state legate a un servizio di notifica cioè che dopo aver eseguito l'azione di spegnere le luci spegnere un determinato media player quindi una determinata televisione oppure abbassare le tapparelle vi arriverà tramite home assistant tramite le notifiche di home assistant dell'app home assistant companion vi arriverà sul cellulare una notifica dove vi indicherà ho spento la luce perché sei fuori oppure ho spento la luce perché hai premuto il tasto di il tasto dello show me praticamente ora andiamo a vedere un attimo questi questa configurazione che che ho fatto in una scheda di prova quindi come potete vedere i componenti della famiglia poiché almeno uno dei due è a casa in questo caso io sono a casa il gruppo avrà come stato in casa le luci da spegnere ovviamente ci sono quindi che era tutte le luci che sono accese poiché almeno una delle luci è accesa in automatico il gruppo è acceso ovviamente da qui potete anche spegnere tutte le luci in contemporanea infine io qui ho tutte le tapparelle abbassate ma se ipoteticamente ne avrei una alzata quindi ora sto alzando una tapparella della camera da letto successivamente vedete che lo strano lo stato cambia stessa cosa dicasi al contrario cioè se io abbasso tutte le tapparelle lo stato come potete vedere è cambiato in chiuso questa è l'attivazione tutti fuori che io posso attivare in maniera in maniera molto molto manuale diciamo però che si attiverà in automatico attraverso il componente famiglia invece questa si attiverà tramite lo xiaomi button io ora vado a premere quindi per un secondo vedrete un attimo la luce buia perché si spegnerà il tutto quindi farò una pressione prolungata come potete vedere l'attivazione da pulsante è stata eseguita e lui in automatico ha spento tutte le luci come se io non 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 fossi in casa al mio doppio tap del del pulsante vedrete che il la luce il pulsante l'attivazione l'input bullet in attivazione del pulsante si è spento io comunque potrei accendere anche la luce anche se è stato se è stata attivata questa funzione magari se sta salendo un parente a casa oppure non so avete un animale domestico e vorrete accendergli la luce ovviamente questa automazione non non vi limiterà all'accensione di determinate luci con questo è tutto spero che questa guida vi sia stata utile e anche il video magari per delucidare qualche piccola mancanza se magari ci fosse stata nel nell'articolo vi invito a lasciare un mi piace sul sul video a iscrivervi sul nostro canale per rimanere sempre aggiornati e un'altra cosa vi invito anche a contattarci sempre sui nostri canali ufficiali alias telegram facebook eccetera per evitare che magari non possiamo rispondervi o cosa più importante ricevere tante email e poi magari ritrovarci con la casella di posta elettronica piena io vi ringrazio un saluto alla prossima da Longo Antonio ciao 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 ciao